Sono Giulia Quattrocchi, sono una specializzante dell'Università di Milano Bicocca. Sono una studentessa del sesto anno dell'Università Bicocca. Sono qua per partecipare ad un progetto collaborativo tra il Lacer Hospital, l'Università di Gulu e la nostra università. Ci troviamo qui al Lacer Hospital, che è uno dei tre grandi ospedali non-profit dell'Uganda. In particolare il reparto di pediatria, che ospita anche fino a 150 bambini ogni giorno. Il reparto di pediatria è poi circondato da una serie di altri reparti. Ogni giorno più di 400 pazienti ricoverati e più di 600 pazienti ambulatoriali vengono qua in ospedale per ricevere cure e accertamenti. Queste cure sono per quasi tutti i pazienti gratuiti e questo vale soprattutto per i bambini. Questa è un'eccezione in Uganda ed è quindi molto importante che non ci si dimentichi di questa cosa e che tutti continuino a dare il proprio sostegno tramite la fondazione e anche all'ospedale, perché è molto importante. Dopo aver toccato con mano questa realtà, è bellissima ma anche difficile. Tento di dire che in questo momento in cui si può scegliere a chi donare il proprio contributo tramite il 5x1000, fare un pensiero a donarlo alla Cior Hospital, in particolare tramite la fondazione Corti, è un gesto che per noi non costa niente ma che qua può essere effettivamente molto importante.